Eccoci bentornati al nostro corso creare videogiochi con scratch, questa è l'ultima lezione, come vedete sto registrando in ufficio oggi, oggi niente video fuori sede per i motivi che tutti sappiamo, chiusura delle scuole eccetera e niente oggi di che cosa parleremo? Parleremo dei controller da collegare al nostro gioco realizzato con scratch, riproporremo il gioco che abbiamo fatto qualche lezione fa, quello della gara di sci e cercheremo di controllarlo con diversi controller Quali sono questi controller? Allora il primo è il classico che già conoscerete, il primo è il Mekimeki, poi faremo anche qualcosa con Arduino Leonardo che probabilmente conoscete meno rispetto alla più classica Arduino Uno di cui abbiamo già parlato tante volte e collegheremo alla nostra Arduino Leonardo collegheremo anche il Capacitive Shield che permette di trasformare una normale Arduino in un Mekimeki ma con un vantaggio tecnico che vedremo più avanti cioè la possibilità di non essere costretti a usare un cavetto per il collegamento a terra e insomma lo vedremo più avanti e poi useremo anche la webcam perché Scratch lo permette, Scratch 3 c'è l'estensione per usare la webcam, in realtà già da varie, anche nelle versioni precedenti era possibile e poi useremo anche lo smartphone creando un'app con App Inventor, qualcosa di cui ho parlato anche in altri webinar che poi ve lo specifico più avanti quindi useremo lo smartphone che via Bluetooth comunicherà determinate cose alla nostra scheda Arduino e quindi potremo usare anche lo smartphone come controller ok, cominciamo, buon lavoro e dato che è l'ultima lezione vi saluto fin da adesso e niente, vi invito poi, vi informo già da ora che insomma nei prossimi, entro la fine della settimana poi pubblicherò i test per ricevere l'attestato di questo corso di quattro lezioni che finisce con questo video quindi buon lavoro e niente, ci vediamo poi al prossimo webinar e al prossimo corso a questo punto, ciao allora eccoci, ripartiamo dai nostri tutorial di Microninja come detto prima, riprendiamo oggi il progetto Scratch Gara di Ski che avevamo già realizzato precedentemente lo apro in Scratch, eccolo qua, ricordo a tutti com'è che funziona quando premo la bandierina verde il nostro gatto comincia a sciare e con le frecce destra e sinistra posso, devo anzi, evitare gli alberi che mi vengono incontro scusate e ogni volta che riesco a evitare un albero mi viene assegnato un punto in più come vedete in alto a sinistra rispetto al tutorial, se cercate di rifare il gioco seguendo il tutorial io ho un po' rallentato lo scorrimento, diciamo, della pista perché era un po' troppo veloce basta andare sullo sprite dell'albero e agire su questo parametro qui del blocchetto scivola in tot secondi perché di base il tutorial indica A1, ve lo provo a rimettere A1 e vedrete che scorre molto più rapidamente faccio ripartire eccolo qui vedete che è molto più veloce quindi ora, dato che vi devo mostrare vari controller, per sicurezza lo rallento e lo porto a 2 ok, quindi la velocità di fatto si dimezza i controller, oggi la lezione, come dice il titolo, è sui controller in controller in scratch sono relativamente facili da usare e implementare nel codice rispetto ad altri linguaggi testuali che uso anche io spesso nei video, il cpp di arduino o processing in quanto di fatto i controller sono tutti, li troviamo dentro i blocchetti situazioni o blocchetti eventi se usate scratch in lingua inglese e li troviamo di fatto incorporati in questi blocchetti con la gobba ok, di fatto per esempio il blocchetto, questo con la gobba, quando si clicca sulla bandierina verde è un controller, in questo caso è un controller dato dall'interfaccia grafica che ci mette a disposizione la bandierina verde altrimenti se vado comunque nelle situazioni trovo quando si preme spazio quando si preme un determinato tasto ok, quindi intanto il primo controller che abbiamo a disposizione ovviamente sono i tasti della tastiera che li abbiamo già visti in questo tutorial precedentemente ed introduciamo adesso invece il controller, il primo, dedicato alla primaria che vediamo oggi in questa lezione quindi un controller inedito che io tra l'altro non ho mai usato dentro scratch nonostante esista già da qualche versione che è la webcam e mi è capitato spesso di usare le videocamere in passato in particolare la Kinect l'ho usata con processing ma non ho mai usato proprio la webcam dentro scratch come si fa? semplicemente dobbiamo andare sulle estensioni qui in basso a sinistra aggiungi un'estensione e vedete che c'è movimento webcam rileva il movimento con la tua webcam ok? ok, lo selezioniamo eccoci qua e adesso mi vedete ok? perché quando viene attivata questa quando viene attivata questa estensione subito si accende la webcam e il nostro e diventiamo parte di tutto lo script ok? di tutto il codice chiaramente dobbiamo usare la webcam come innesco come situazione e vedete che qui a sinistra mi compaiono i blocchetti del movimento webcam devo prendere quelli con la gobba appunto che andranno a sostituire ad esempio la freccia destra o freccia sinistra in questo caso prendo destra metto questo quando il movimento video è superiore a 10 quindi significa che se io mi muovo il gattino si muove verso destra ok? vedete? ovviamente qui ci sarà poi da fare un po' di di lavoro sul sul filtraggio dei dati non ho ben capito quale sia l'unità di misura di questo parametro qui insomma di questo 10 di solito quando usavo la Kinect o insomma quando si usano le 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 camere vedete? lui continua a muoversi per far si che non si muova devo stoppare il mio codice stop ma non si stoppa perché lui si attiva comunque il blocchetto si attiva lo dovrei staccare per evitare che continui a muoversi infatti vedete ora non si muove più verso destra il gattino non ho ben capito qual è l'unità di misura ho guardato un po' sul wiki online di scratch quindi c'è da fare un po' di prove di solito nelle videocamere l'unità di misura per misurare appunto l'estensione di movimento è il pixel vi invito comunque a fare un po' di prove e a cercare di capire insomma tanto è facile da portare dentro al proprio al proprio codice ok? per disattivare la webcam dobbiamo usare questo blocchetto spegni voilà ok? perché altrimenti non altrimenti semplicemente rimaniamo sempre eh come di bloccati dentro costretti a essere parte del nostro script il che può essere interessante ma insomma uno può anche decidere di non di uscire dalla webcam i pro di questo insomma i benefici i pro di questo controller ovviamente sono la facilità d'uso e di implementazione i contro vanno un po' scoperti con la pratica ripeto ora non ho mai non l'ho mai usata dentro scratch ma le problematiche delle videocamere con altri linguaggi sono in parte risolte dalla vecchia Kinect che però era una videocamera comunque tridimensionale che sentiva anche la profondità quindi era più facile per lei distinguere per esempio fra due giocatori qui bisognerebbe fare un po' di prove per vedere se e come la webcam dentro scratch riesce eventualmente a percepire due due giocatori e penso che non ci riesca perché non vedo la possibilità di 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 in qualche modo identificare di fare la detection di due giocatori diversi questa è una cosa che riusciva a fare la Kinect con una procedura di calibrazione ma qui non la vedo però insomma tutto può può essere quindi vi invito a fare un po' di prove ed eventualmente darmene anche informazione in chat ora andiamo avanti sul secondo controller anche questo dedicato alla primaria ed è il il Mekimeki allora eccoci il secondo controller di oggi come ho detto è il Mekimeki per chi non lo sapesse vi invito per chi non sapesse cos'è il Mekimeki invito tutti a cercare su youtube il video promozionale ora più tardi appena rientro diciamo in screencast ve lo mostro comunque vi mostro come cercare come cercarlo su youtube Mekimeki che cos'è questa schedina altro non è che un arduino leonardo di un'altra forma di cui parleremo di arduino leonardo parleremo più tardi e come funziona semplicemente colleghiamo appunto dei cavetti con dei con dei morsetti questi morsetti sono poi capaci di trasformare qualsiasi oggetto conducibile di metallo la frutta la plastilina la grafite o qualsiasi cosa conducibile in un sensore di contatto contatto con cosa? con la nostra pelle con la pelle delle nostre mani quindi questo significa che poi quando noi tocchiamo quell'oggetto quella banana quella mela quella formina di plastilina la nostra schedina Mekimeki invia al computer un tasto l'emulazione di un tasto della tastiera oppure l'emulazione di un click del mouse ok? e possiamo insomma scegliere di posizionare il nostro morsetto vedete queste sono le quattro frecce poi abbiamo lo spazio e il click del mouse quindi a molti pro il Mekimeki intanto costa poco costa una quarantina di euro è facile da implementare soprattutto in scratch adesso poi lo vedremo appena rientro in screencast e l'unico contro è questo rispetto alla soluzione poi successiva che vi mostrerò anche se questo contro vi dico di già che è già poi molto bilanciato dalla semplicità d'uso di Mekimeki soprattutto per la primaria ok? l'eventuale alternativa riguarda la secondaria perché c'è da insomma da entrare un po' nel codice di arduino ed è un po' più complesso per la primaria diciamo questo è un contro è un contro relativo il contro è che per funzionare Mekimeki obbliga l'utente a essere sempre collegato anche alla messa a terra che è che sono queste prese qua sotto dove c'è il cavetto verde dove ho messo il morsetto verde ok? quindi significa che io per chiudere il circuito non mi basta toccare il cavetto bianco in questo caso collegato a ora lo foco perché lo sto toccando col dito così vedete che non si illumina niente se tocco solo il cavetto bianco appena con l'altra parte del mio corpo magari con quest'altra mano mi collego il cavetto alla mia fede ok? in questo modo quando tocco il il morsetto bianco che teoricamente dovrebbe essere attaccato collegato a un sensore conducibile la plastilina la frutta eccetera vedete che si illumina il led perché riesco a chiudere il circuito grazie alla messa a terra che è questa cioè il collegamento del mio corpo alla messa a terra questo è l'unico contro che c'è ma ripeto è bilanciato dalla semplicità d'uso eccetera vediamo adesso come funziona dentro lo scratch perché c'è un'apposita un'apposita estensione per Mekimeki inoltre di Mekimeki ne ho già parlato in un precedente video della scorsa primavera che vi invito a cercare nel sito paleos che è coding con Mekimeki ora vi mostro il link appena rientro in screencast datemi un secondo ok sono tornato in screencast questo è il video che dovete andare a cercare su youtube Mekimeki an invention kit for everyone vedrete che ora non ve lo mostro perché l'ho mostrato in tantissimi in tantissimi video precedenti non vorrei tediare chi già mi segue da da tempo però insomma per chi non lo avesse visto lo consiglio perché sicuramente è uno dei maggiori pro di Mekimeki è proprio quello di soprattutto per i docenti della primaria o per i ragazzi per gli studenti della primaria o delle medie che è sicuramente un oggetto utile per come dire esercitare la propria creatività inventando controller sempre più strani ok il video dove che appunto dove parlavo del Mekimeki la scorsa primavera dell'anno scorso lo trovate nella pagina corsi online gratuiti del nostro sito andate giù 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 scorrete 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 e arriverete a introduzione alla didattica stem con paleos ed eccolo qui coding con Mekimeki era un webinar di 45 50 minuti tutto dedicato al Mekimeki poi ne ho parlato varie volte in altri video ma comunque il qui c'era già un bel po' ci sono già un bel po' di cose di cui vi faccio solo un breve riassunto adesso il breve riassunto non è tanto sul funzionamento della scheda che è totalmente plug and play ma ovviamente è su come utilizzarla dentro Scratch dentro il nostro tutorial gara di sci Mekimeki dalla versione 3 di Scratch cioè da questa che vedete ha una sua estensione quindi andiamo ve lo faccio rivedere nuovamente vado in basso a sinistra scelgo aggiungi estensione ed eccola qui Mekimeki trasforma qualunque cosa in un pulsante io ve l'ho detto in una maniera un po' diversa trasforma qualunque cosa in un sensore di contatto importo la libreria e trovo questi due nuovi questi due nuovi blocchetti semplicemente mi basta sostituire questo con uno delle con uno delle frecce ad esempio riprendo un attimo in mano la mia scheda io ero collegato alla freccia destra quindi vado a sostituire questo questo lo sposto e metto questo e metto scusate e metto freccia destra qui nella tendina freccia destra quindi il movimento ora il movimento verso sinistra lo sto facendo con la con la tastiera mi devo collegare scusate alla scheda mechi mechi ora non mi vedete ma insomma fidatevi riparto il movimento verso destra lo sto facendo toccando la scheda la scheda mechi mechi ok quindi molto semplice facilissimo da facilissimo da implementare quindi mechi mechi sicuramente dopo la webcam l'altro controller con cui ci possiamo con cui vi potete sbizzarrire alla primaria insomma nei primi anni della secondaria di primo grado nel video che vi invito a vedere nel mio video quello coding con mechi mechi dell'anno scorso troverete anche in maggior dettaglio come utilizzare quest'altro blocco quando si preme la sequenza di tasti perché è possibile anche stabilire una sequenza di tasti da premere in mechi mechi e poi quel video è interessante anche per quelli della secondaria soprattutto delle superiori perché parlo anche di come riprogrammare mechi mechi ok quindi di entrare nel codice arduino riprogrammarlo eccetera era un webinar dedicato sia alla primaria che alla secondaria un po' come questo come questo corso ok ripeto mechi mechi ha quasi solo vantaggi l'unico contro che vi ho già detto prima quando ero in webcam è quello che uno deve essere in qualche modo sempre collegato al cavo diciamo della messa a terra quindi non c'è mai un uso totalmente tipo smartphone ovvero io tocco il touch dello schermo lui mi rileva ma io non è che sono collegato con un cavo al telefono oppure a un'altra o da qualche altra parte ok questo è l'unico svantaggio che c'è ma vedremo come superarlo adesso con il terzo controller che è il capacity shield per arduino che però purtroppo a differenza di mechi mechi è un pochino più difficile da implementare quindi insomma già alla primaria è un po' più difficile comunque ora lo vedrete datemi un secondo torno in webcam e vi mostro il capacity shield di arduino ok eccoci eccoci al nostro terzo controller di oggi che è il capacity shield che cosa fa come vedete ci sono i fori come i mechi mechi questi fori servono appunto scusate che recupero un morsetto dal dal mechi mechi questi fori servono appunto per bloccare un un morsetto vari morsetti possiamo metterne fino a 12 quindi teoricamente possiamo crearci dei fino a 12 sensori di contatto come con la frutta la plastilina il metallo la stagnola tutte queste cose qui e li colleghiamo su questo shield che a sua volta andrà attaccato alla scheda arduino ora vedremo quale arduino e come collegarlo il vantaggio come vedete rispetto a mechi mechi è che io per poi chiudere il circuito ora ve lo mostrerò mi basterà toccare un cavetto non devo essere collegato alla terra questo è un indubbio vantaggio soprattutto per realizzare installazioni interattive infatti ne avevo già parlato di questo componente in un precedente video dove parlavo dei ora ve lo faccio vedere più tardi quando rientro in screencast erano i sussidi tattili per l'ipovisione del ciclo stampa 3D per i bisogni speciali ok sempre nel 2019 vediamo come lo colleghiamo alla nostra scheda arduino per questo tipo di progetto di cui stiamo parlando dove dobbiamo in qualche modo guidare controllare scratch siamo costretti a non utilizzare la tradizionale arduino 1 che di solito uso quella che mi vedete sempre usare nella robotica insomma ho sempre parlato quando parlo della robotica DIY tra l'altro questo l'originale è un clone questo invece originale un arduino un arduino leonardo originale le differenze fondamentali fra la 1 e la leonardo una è di tipo insomma abbastanza banale il collegamento usb questa è micro usb e questa invece è l'usb tradizionale e l'altra più interessante è che l'arduino leonardo di per sé nasce come una scheda che permette di fare l'emulazione del mouse e della tastiera quindi possiamo dire che questa scheda sia come una specie di mouse o tastiera esterna al nostro pc senza i tasti i tasti come li realizziamo collegandoci vari sensori ok i nostri sensori in questo caso è lui il nostro sensore il capacitive shield che va semplicemente incastrato incastrato sulla scheda e fatto così ed ecco ci siamo costruiti il nostro makey makey in qualche modo senza più o meno allo stesso prezzo perché il capacity di una scheda arduino anche originale costa una ventina di euro e mi sembra anche una ventina di euro il capacitive shield adesso vi quando rientro in screencast vi mostro la pagina web precisa del prodotto ed ecco ora vi farò vedere rientrando in screencast qual è il codice che mi permette di più complicato purtroppo perché stavolta mentre makey makey è un prodotto chiave in mano qui in realtà noi stiamo personalizzando le funzionalità dell'arduino leonardo quindi dobbiamo in qualche modo entrare nel nel suo codice ok non è difficilissimo però entriamo nel codice testuale quindi insomma non è un'attività diciamo da scuola primaria ok e quindi un pochino più complesso entreremo in arduino ide quindi ora rientro in screencast per mostrarvi sia le schede prodotto di adafruit capacitive shield sia per mostrarvi il link al mio precedente corso e soprattutto il codice per utilizzare capacitive shield e vedere l'effetto che abbiamo su un scratch ok datemi un attimo e rientro in screencast allora eccoci in screencast allora la prima cosa che vi ho detto è il prodotto il suo nome preciso è questo adafruit 12 per capacitive touch shield for arduino ora qui c'è il prezzo in dollari insomma costerà una decina aderzo ma dipende anche un po' dove no forse costa di più dipende un po' dove lo trovate perché chiaramente se lo prendete dagli stati uniti poi rischiate di avere prezzi di dogana spedizione insomma un po' variabili in italia se non ricordo male io l'avevo pagato una ventina di euro e l'avevo comprato su un sito che si chiama robot italy ok comunque questo è il suo nome adafruit 12 per capacitive touch shield for arduino ricordatevi mpr 121 che ci servirà adesso quando entreremo nel codice per cercare la sua libreria il l'altro video dove ne avevo già parlato lo trovate sempre su corsi online nel nostro sito scendete giù fino a stem academy secondaria in robotica per la secondaria no scusate non in robotica per la secondaria in stampa 3d per i bisogni speciali cliccate sopra attendiamo un attimo ed eccolo qui era qua il primo il primo video il primo webinar fate inizia subito su siti tattili per ipovisione inizia subito ed eccolo qua il primo il primo video questo qui su siti tattili per ipovisione e ne avevo ne avevo parlato ok andiamo a vedere adesso è il momento di vedere il il codice andiamo in in arduino ide eccolo qui il vi sembrerà complicato ma sappiate che ho semplicemente modificato il il programma di esempio che era fornito insieme alla libreria cosa sono le librerie un po' come le estensioni in scratch quando usiamo un componente un po' particolare di solito dei sensori ma anche gli attuatori il fornitore mette a disposizione una libreria che aggiunge del codice delle funzionalità uguale ai blocchetti delle estensioni in scratch in arduino possiamo gestire le librerie da strumenti gestione librerie e se premiamo si apre questa finestra dove possiamo vedere tutte le librerie che sono disponibili o che eventualmente possiamo scaricare ok io vado a cercare qui adafruit capacitive vediamo che cosa trova eccolo qua vedete adafruit mpr 121 ora chiaramente l'ho già installata la posso eventualmente fare l'update se fosse disponibile e probabilmente lo è ora poi lo farò e quindi ho a disposizione questa libreria una volta che ho a disposizione la libreria nel mio ambiente di programmazione se vado negli esempi da file oltre a quelli di base che trovate sempre inclusi appena scaricate il programma arduinoide andando più giù troverete anche le librerie diciamo aggiuntive che sono state aggiunte in un secondo momento e andando giù 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 eccola qua adafruit mpr 121 e c'è il file di esempio lmpr12 test ok che è uguale a quello che vi sto mostrando qui più in grande a cui ho semplicemente aggiunto delle righe tipiche del di arduino leonardo cioè la possibilità di mandar fuori verso il pc i segnali di diciamo le informazioni di quale tasto viene premuto in questo caso freccia destra che sono queste righe qui e freccia sinistra per farvi vedere il funzionamento dello shield apro il monitor seriale che avevo già aperto eccolo qua e adesso vedete mi dice che la porta 0 cioè la prima porta è toccata è rilasciata toccata è rilasciata perché oggettivamente ora non mi vedete fidatevi la sto toccando col dito come prima col mechi mechi la differenza ripeto rispetto al mechi mechi è che io sto usando sono collegato o meglio sto semplicemente toccando il morsetto non sono collegato alla messa a terra ok questo è un grosso vantaggio se invece sposto il morsetto su sull'altra sull'altra porta vedete ora sto toccando la 1 che è la seconda poi la 3 eccetera ovviamente toccando i morsetti uno può essere più preciso ora in questo caso stavo toccando direttamente la scheda ok ecco la sto toccando il morsetto vedete rileva la 0 perché non tocco accidentalmente gli altri contatti delle altre delle altre porte vediamo qual è l'effetto in scratch semplicemente quando tocco dovrebbe la porta 0 se non sbaglio dovrebbe fare la freccia destra che è questa condizione che ho inserito qui dentro premi freccia destra attendi 100 millisecondi quindi un decimo di secondo e poi rilascia la freccia destra andiamo in scratch e vediamo premo ed ecco il nostro gattino vedete si illumina il blocchetto qua della situazione freccia destra perché sto toccando il perché sto toccando il il mio morsetto collegato al capacitive shield via ve lo faccio vedere anche in webcam datemi datemi un attimo e poi passeremo all'ultimo controller ok eccoci in webcam guardate io ho un solo morsetto in questo caso collegato alla prima porta del capacitive shield non sono quindi collegato alla alla terra come scusate come in mechimeky e guardate quando tocco vedete che si accende guardate qui c'è un piccolo led che rileva il mio tocco ok proprio come prima nel mechimeky vedevate che si accendeva il led e qui la stessa cosa la differenza e il grande vantaggio è che abbiamo bisogno solo di non dobbiamo essere collegati a terra quindi possiamo implementare i nostri sensori touch i nostri sensori di contatto dentro degli oggetti liberamente maneggiabili dagli utenti bene ora rientro ora cambio anzi rientro in screencast per parlare dell'ultimo controller che è lo smartphone allora prima di partire con lo screencast dell'ultimo controller vi devo però far vedere il componente hardware nuovo che inseriremo in questo controller perché chiaramente vabbè è inutile vi faccio vedere lo smartphone tanto è uno smartphone android useremo la scheda leonardo che abbiamo l'arduino leonardo abbiamo già visto e il nuovo pezzo che aggiungiamo è l'antennina bluetooth adesso poi vi mostro la scheda prodotto su amazon qualora qualcuno fosse poi interessato a procurarselo di solito ho utilizzato parlato del bluetooth dell'antennina bluetooth to serial per arduino nei video dedicati alla robotica fai da te la uso di solito con il robot eduino è questo componente qui che poi va montato su una breadboard e questi cavetti volanti poi vanno collegati alla nostra scheda arduino arduino leonardo che chiaramente sarà collegata via usb al computer e il bluetooth sarà collegato senza fili ovviamente al mio smartphone dove avrò installato un'applicazione realizzata in app inventor che vedremo adesso in screencast ok ecco il prodotto su amazon questa è l'antenna bluetooth appunto si chiama hc05 il prezzo è questo ma considerate che questo è il prezzo di una confezione da 5 quindi diciamo uno costa più o meno dipende un po' da dove magari potete pagare anche qualcosina meno insomma di solito noi li compriamo intorno ai 5 6 euro ciascuno ok comunque insomma questa è una confezione da 5 questo è il componente hc05 bluetooth integrato che di fatto riceve via bluetooth e trasmette all'arduino attraverso le porte fisiche della scheda le porte fisiche sono il pin 0 e il pin 1 tra i pin digitali della scheda sia l'arduino 1 che l'arduino leonardo ok andiamo a vedere adesso proprio qual è il codice che finisce dentro la scheda arduino e poi vi mostrerò il codice dell'app che invece ho fatto con app inventor che ho caricato e installato sullo smartphone partiamo dall'arduino eccolo qui no questo è quello precedente no è questo scusate eccolo qui praticamente ho semplicemente modificato il codice che uso di solito per il controllo bluetooth del robot eduino chi insomma chi ha visto i video sulla robotica saprà insomma che cos'è eduino e anche il corso robotica DIY con arduino è un robot che uso che ho costruito io basato su arduino e stampato in 3d che uso per tutti i corsi e per i laboratori di robotica educativa anche con i ragazzi questo è il codice di controllo bluetooth ora non ve lo sto a commentare perché è abbastanza lungo vi dico solo che nel momento in cui la nostra scheda riceverà la stringa di testo orario dalla nostra app installata sul telefono la nostra scheda che cosa farà come prima premerà il tasto il tasto destro della tastiera tenderà 100 millisecondi e poi lo rilascerà ok quindi questo è quello semplicemente al codice che già usavo per il controllo bluetooth del robot ho semplicemente aggiunto le funzioni di controllo tastiera dell'emulazione tastiera ok del pc vi dico anche che questo tipo di lavoro l'ho già mostrato in maniera cioè di uso di app inventor per sfruttare in qualche modo anche i sensori del mouse ne avevo già parlato in un video che trovate qui nel nostro sito in stem academy secondaria nel corso robotica per la secondaria un video recente dello scorso dicembre se non ricordo male e dovrebbe essere questo qui il laboratorio di robotica educativa e inclusione quindi fate anche qui inizio subito e lo ritrovate qui dentro quando quando arrivano i video vediamo se arrivano eccolo qua l'ultimo laboratorio di robotica educativa e inclusione è un video in comune ad altri tre corsi dello scorso anno però insomma lo trovate qui dentro la il corso robotica per la secondaria adesso datemi un secondo che apro app inventor ok questo è l'aspetto grafico dell'app sul questo è il simulatore dello smartphone questo è l'aspetto grafico molto spartano semplicemente ci sarà quando apro l'app sul telefono dovrò selezionare il modulo bluetooth a cui collegarmi come si fa normalmente con i dispositivi bluetooth prima si accoppiano rimangono memorizzati e poi ogni volta si apre il collegamento vediamo cosa succede dietro alle quinte di questa bellissima interfaccia grafica vado qui in alto a destra trovo blocks e questi sono i blocchetti del del programma che dicono semplicemente che andiamo alla parte più sostanziosa che sfrutto l'accelerometro un asse dell'accelerometro che quando diciamo su un determinato asse il movimento è superiore a una certa soglia come vedete il invio la stringa di testo orario che come abbiamo visto in precedenza nel codice arduino la mostro di nuovo è proprio quello che voglio eccola qua se ciò che arriva è uguale alla stringa di testo orario allora fammi accadere queste cose queste cose qui adesso vediamo l'effetto su scratch poi per darvi la prova del movimento che faccio con lo smartphone vi faccio vedere anche il movimento in in webcam vedete che ho aggiunto anche una riga digital write 13,1 e digital write 13,0 significa che nel momento in cui la scheda riceve il segnale orario la stringa di testo orario dal mio smartphone accende anche il led montato sulla porta 13 quindi da webcam vi posso far vedere appunto muovendo lo smartphone si accende il led e quindi insomma potete avere la prova dal vivo del funzionamento della cosa comunque c'era un video più carino appunto nel corso laboratorio di robotica e inclusione che vi ho mostrato prima allora andiamo in scratch e vediamo come funziona ok sto agendo sul sull'accelerometro del 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 mio smartphone semplicemente agitandolo lungo un asse e vedete che il gattino si sposta verso destra vedete che si attiva il il blocchetto della situazione quando si preme il tasto freccia destra perché di fatto cos'è che avviene quando agito lo smartphone lungo un asse quel che ho scelto lo smartphone invia quella stringa di testo che è arbitraria ora io ho messo orario uno poteva mettere qualsiasi stringa di testo la invia alla scheda arduino che la riceve via bluetooth quindi senza fili e la nostra scheda arduino come vi ho fatto vedere prima di fatto nel suo codice riproduce il tasto freccia destra ed è quello che stiamo vedendo ora vi mostro in webcam proprio il movimento che faccio con la mano e con lo smartphone e vedrete che sulla scheda arduino si illumina oltre a inviare il tasto freccia destra ma questo non lo vedete vedrete che si illuminerà il led montato sulla porta 13 ok datemi un attimo allora eccoci qui c'è il mio smartphone qui c'è il led in primo piano e vediamo come si accende vedete nel momento della sua accensione la scheda arduino leonardo sta inviando un messaggio freccia destra alla a scratch e quindi starà muovendo il gattino come abbiamo visto in precedenza ripeto vi faccio un breve riassunto di tutto il ponte il passaggio la nostra app sul cellulare eccola qui invia la stringa di testo orario la invia senza fili via bluetooth all'antenna che a sua volta la passa alla scheda che in base al suo codice dice che quando riceve la stringa di testo orario invia via bluetooth si via usb scusate semplicemente collegata via cavo come se fosse un mouse o una tastiera esterna invia il tasto freccia destra e quindi il nostro codice dentro scratch risponderà a quella situazione o a quello evento ok allora il nostro la nostra video lezione così come il nostro corso si conclude qui spero che vi sia piaciuto è stato un video una lezione diciamo abbastanza complessa anche per tenere insieme varie viste di screencast e di webcam ovviamente è stata ovviamente una lezione che come tutto il corso ha cercato di tenere insieme un po' la primaria e la secondaria che è una cosa che a volte faccio a volte no in questo caso l'ho voluto fare perché comunque girando nelle scuole spesso mi rendo conto insomma di come scratch alla fine sia un tessuto connettivo almeno per le attività di coding sia più semplici sia anche quelle più avanzate mi capita spesso di vedere che scratch anche ai licei scientifici anche con la specializzazione scienze applicate quindi dove si fa comunque programmazione almeno nel biennio viene ancora portato avanti quindi è proprio una specie di percorso che di solito si inizia verso metà della primaria e si arriva anche a metà delle superiori quindi secondo me era comunque interessante avere una visione d'insieme sia di cose di funzionalità base ma anche delle possibilità di uscire fuori dallo schermo questa è una cosa che dico sempre e collegarsi poi ai controller esterni al mondo esterno ovviamente la via più semplice è usare l'emulazione del mouse o tastiera perché scratch nasce già così insomma fa muovere le cose fa accadere le cose in base ai comandi di tastiera o di mouse come avete visto insomma in questo video ci sono state tante risorse aggiuntive codici soprattutto questi verranno allegati alla pagina del corso insieme ovviamente ai test che vi ho detto pubblicherò entro qualche giorno ed ovviamente saranno accessibili a chi di voi ha scelto il pacchetto docente paleos poi come sempre il video è comunque liberamente fruibile da tutti ok io vi saluto ci vediamo al prossimo video al prossimo corso e ora stiamo decidendo quale sarà il prossimo corso ve lo annunceremo via newsletter vi saluto a presto